E' difficile andare in strada ad operare perché hanno problemi e le soluzioni gliene diamo l'obiettivo, hanno proprio un personale, facciano in modo qui, 15 mila, militari dell'esercito e sono in posizione di nord, è meglio in strada e se... Prima impressione di questa bellissima piazza, oggi, quel tempo? Beh, non so, avete fatto le riprese, è uno spettacolo, è uno spettacolo, solo la Lega può fare questi miracoli, vorrei vedere chi porta centinaia di persone in una piazza come questa e una giornata bellagodista a parlare di futuro, non a polemizzare, insultare scuole, ospedali, strati, artigianato, immigrazione, Europa, studi in settore, agricoltura, Castelfranco, Treviso, Veneto, Italia, Europa, noi le cambiamo. Se diventi sindaco di Milano, facciamo il gemellaggio con Castelfranco? No, io vengo a vivere a Castelfranco, ti faccio prima perché mi piace molto. Eh sì? Allora dai, boiaggio! Ciao, grazie. Grazie, ragazzi, le persone che demoliscono le città, bruciano i cassoletti nell'auto, spaccano le trine e pensate che... Ciao! Ciao! Ciao!